e allora amici di calciopasso ieri sera non c'è stato tempo di fare il video non ci ho avuto modo lo faccio questa mattina da roma passa il girone da prima da prima e in culo in culo proprio al bodo che facevano tanti fighi con lo striscione 6 a 1 te lo metti al culo il 6 a 1 perché poi dopo alla fine dei conti non ti è servito visto che non sei riuscito a vincere con quella squadra dei morti lì dal nome sti nomi impronunciabili zoria zoria vabbè comunque sia io spero veramente che questo sia il primo e l'ultimo anno che facciamo questa coppa dei poracci perché questa è veramente una coppa dei poracci e comunque speriamo di vincerla chiaramente insomma è il sogno che coltiviamo dentro di noi anche se sarà tosta perché poi arriva un momento nella vita arriva sempre quel momento nella vita in cui devi fare i conti o con gli inglesi o con gli spagnoli daremo a vedere detto questo un buon primo tempo non è eccelso ovviamente c'è gente che ieri su facebook scriveva commenti improponibili come se avesse visto chissà quale calcio sono tutto no si è vista sicuramente un buon ritmo contro una squadra csk sofia insomma che sì nel secondo tempo chiaramente quando stavano un po sgombri mentalmente soprattutto dal settantesimo al novantesimo ma lì è colpevole la roma lì non è la grandezza del csk di sofia lì è la roma che ha completamente mollato di testa e in altro posto si rischiava pure il pareggio e fa bene murigno a incazzarsi su queste cose perché una squadra che conduce 3 a 0 poi non te puoi permettere fatte fa due cose perché significa proprio mollare a livello di testa e la squadra che vuole comunque migliorare che vuole ambire a traguardi non quest'anno sicuramente ma traguardi futuri e che vogliamo capire quali sono i giocatori su cui fare affidamento da qui a n anni non te puoi permette una caduta del genere detto questo chiaramente la partita di ieri ha due nomi in particolari che balzano agli occhi di tutti e sono quelli di te li dico in ordine dal peggiore al migliore cioè tra i migliori ovviamente il peggiore e parlo di bove il ragazzo mi è veramente piaciuto perché ci ha messo grinta cuore polmoni anche una buona dose tecnica che ce l'ha e chiaramente borca majoral borca majoral ha fatto il bello il cattivo tempo soprattutto nel nel primo tempo e andando a prendersi palla fra le linee smistando palloni creando scompiglio tra le linee appunto facendo il pre assist cioè l'assist a casdorp che era quello oggettivamente un po più non dico difficile però complesso perché comunque aveva degli uomini intorno si è dovuto girare ha visto la corrente casdorp poi quello di casdorp insomma è stato un piattone servito servito bene e soprattutto ha fatto un gol della madonna non ha preso del mezzo esterno tacco sola non ho capito bene come l'ha presa comunque è stata ecco quella è stata veramente una bella azione con vigna che si è sovrapposto che ha messo sta palletta un po dietro bella tesa e lui ha dovuto soltanto spizzarla sembrava tipo una spalata di neve e non sembrava manco sta bomba però evidentemente il portiere è stato preso in contropiede e quindi è stato un bel gol ecco io direi che borca majoral spero che murigno abbia capito che borca majoral è un signore attaccante che merita un po più di spazio un po più di considerazione non soltanto facendogli a giocare queste partite de merda su campi improponibili utilizziamo un po di più anche in serie a cerchiamo di trovare un modulo che lo comprenda o cerchiamo di farlo entrare un po più spesso di dargli un po di minutaggio perché il ragazzo la porta la sente ok e anche fisicamente insomma protegge molto bene palla c'ha una buona tecnica ieri dopo una buona serpentina poteva fare anche un altro gol poi non so se ha colpito male c'è stata una zolla insomma a mio avviso il ragazzo merita un po più di spazio e potrebbe essere una risorsa importante se murigno inizia utilizzato perché poi ha fatto anche grandi complimenti in pratica da quello che ha detto murigno è l'unico che gli è piaciuto ieri durante tutta la gara e questi sono complimenti che galvanizzano un calciatore quindi cerchiamo di utilizzare questo momento perché poi se agli attaccanti ci stanno quei momenti che iniziano assegnare poi non si fermano più ecco non rimettiamolo in naftalina complice anche l'assenza di zagnolo contro lo spezia buttiamolo dentro damogli minutaggio comunque l'intesa non mi sembra male fra i due proviamo proviamo sta coppia vediamo se ci può fare la differenza ok ciao ricordatevi la pagina instagram cantatoreggiato rosso la pagina instagram andrea daloni punto it e il sito andrea daloni punto insomma ricordatevi un sacco di cose ricordatevi tutto